Ragazzi è inutile, quando si tratta di comunicare con un ex partner per cui c'è ancora un coinvolgimento emotivo sentimentale si va sempre in pappa e questo non ci stupisce, sappiamo infatti che una delle componenti diciamo mentali che viene meno quando soffriamo è quello della lucidità, la razionalità, quindi il pensare in modo funzionale e questo si riverbera particolarmente proprio sulla comunicazione, in particolar modo per quanto riguarda le domande perché quando noi veniamo lasciati siamo pieni di punti interrogativi, guarda qua ce ne sono dieci qui, dieci qua quindi oggi passiamo al setaccio quelle che sono le zone nere, ossia dove non devi mai addentrarti quali sono le domande che non devi mai fare, perché molto probabilmente ti porteranno in errore quindi stai fino in fondo perché così facendo affilerai ancora meglio i tuoi artigli ma non prima di averti ricordato chi sono, cioè io sono Marco, sono un consulente relazionale laureato in psicologia e io e il mio team ci occupiamo di aiutare persone motivate di successo che però stanno vivendo una situazione di intoppo a livello relazionale e vorrebbero una mano a riprendere il proprio benessere per come era nel suo splendore ed aumentare al massimo la probabilità di riconquistare la persona che ancora desiderano se questo ovviamente vale la pena quindi se hai questo genere di motivazione vai in descrizione perché troverai sicuramente pane per i tuoi denti tutto quello che cerchi è lì, è inutile che chiedi nei commenti, va in descrizione ovviamente adesso io ti spiegherò non solo quali sono le domande da non fare perché sarebbe molto facile così per me dire non fare questo, non fare quello ti spiegherò anche le ragioni per cui è sbagliato fare determinate cose partiamo dalla base noi vogliamo ricontattare un ex e le chiediamo come stai, ciao come stai ora la cosa è questa questo messaggio se noi lo mandiamo che siamo in una relazione o con un amico o con qualsiasi altra persona non c'è problema manda i ciao come stai, quando e come vuoi non è un messaggio sbagliato in senso assoluto è sbagliato in senso relativo quando noi vogliamo riconquistare una persona perché come primo impatto è un impatto estremamente tiepido estremamente flebile, comune, banale mi viene da dire quindi siccome il nostro obiettivo è quello di riproporci al meglio ci sono sicuramente cose migliori che noi possiamo fare e che non ci facciano sembrare persone banali e prive di idee ok? senza però eccedere nel mando un messaggio particolare cervellotico che non riceve da nessuno perché c'è un sottile confine tra il sembrare brillante e sembrare uno straboide e questo confine non va mai varcato come non va mai varcato il confine del non sono cazzi tuoi te l'ho detta in francese ma te la voglio spiegare se noi chiediamo alla ex allora ma ti vedi con qualcuno? ti senti con qualcuno? quello non è un terreno di tua indagine io lo so che tu dici ah ma se io so che si frequenta con un altro per me è finita vai tranquillo che rischia di essere finita anche solo per il fatto che tu ti dimostri controllante nei suoi confronti e questo che vuoi sembrare una persona controllante non mi sembra proprio il caso più che altro ti ha lasciato ok? se siete invece in una situazione di pausa dove state ancora assieme questa cosa può avere anche un senso ma in ogni caso chiedere alla ex o all'ex se si frequenta con qualcuno cioè che risposta speri di ottenere? cioè sinceramente è probabile che ti dica non sono fatti i tuoi oppure che ti dica no per non farti soffrire sapendo che con questa risposta ti spezzerà in due quindi in ogni caso sembri veramente supplichevole e alla ricerca di rassicurazione peraltro sembri anche stupido perché sappiamo benissimo che nella stragrande maggioranza di casi non è questa la ragione che ha portato alla rottura la ragione che ha portato alla rottura la cosa che porta alla rottura è il fatto che si sia creata una crepa nella relazione nella quale si è infiltrata questa nuova persona ok? nel caso in cui ci sia un potenziale antagonista un flirt sempre così una crepa un qualcuno che occupa questa crepa ma non necessariamente una persona che abbatte il muro o ne tira su uno suo capisci che ti voglio dire? molto spesso parliamo di relazioni d'appoggio di frequentazioni così tanto per colmare un vuoto per esempio l'assenza di desiderio o una persona che ascoltava o ascolta il tuo ex o la tua ex in modo migliore ok? quindi non chiediamo se si frequenta con qualcuno anche lì ma tu mi ami? cioè ragazzi ma che domande fate? lo so che sono tutte dettate dallo stato di malessere e di sofferenza se quella persona ti ha lasciato vuol dire che i sentimenti sono calati sotto una soglia ora fare una domanda a stampo dicotomico alla ex non fa altro che suggerire alla ex la risposta del no perché cosa ti devo dire? sì ti amo ancora ma ti lascio? questo succede in alcuni casi ma molto spesso sono casi di manipolazione o casi in cui l'altra persona è davvero coinvolta ma è veramente troppo delusa da te in tutti gli altri casi che sono la maggioranza l'altra persona ti ama un po' meno non abbastanza per giustificare la relazione ed è per questo che siamo arrivati alla rottura ragazzi non perché c'è l'assenza totale del sentimento ma perché non è sufficiente diciamo a giustificare lo stare assieme cosa lo chiedi a fare? alcune risposte le sappiamo già anche lì oh non mi ha mai detto perché mi ha lasciato io vorrei almeno sapere questo guarda se non ti ha detto la motivazione per cui ti ha lasciato 99 su 100 è per un calo d'attrazione mentale o fisica così è e così sarà sempre in tutti gli altri casi c'è una spiegazione perché magari è una cosa di stampo razionale quindi ha lasciato perché io ho tradito perché io non le davo certezze sul futuro perché ero troppo fumantino geloso possessivo troppo attaccato ai miei genitori troppo immaturo cioè negli altri casi è facile che questa cosa ti sia stata detta però dipende anche dalla ex ci sono ex che non vogliono mettere il carico da 90 quindi pensando di farti meno male non ti dicono le ragioni a volte sapere le ragioni è un bene me ne rendo conto ma non è che devi andare lì a supplicare una ragione anche perché l'ex ti può dare una motivazione verbalizzata e dirti no perché ho bisogno di stare da sola è un periodo strano per me ho bisogno di trovare me stessa no mettici tutte queste verbalizzazioni perché te le sta dicendo ha paura di sembrare superficiale o di essere attaccabile per quello che ti sta mostrando capito un'altra cosa che mi fa dispiacere è quando voi chiedete all'ex siccome vi risponde in modo freddo monosillabico ma che ti ho fatto per meritarmi questo mica ho ammazzato nessuno come se il trattamento freddo di una ex possa dipendere solamente dal fatto che tu l'hai fatto del male a volte non è così però lei non ha voglia di sentirti non vede perché dovrebbe investire su di te altro tempo ti ha appena lasciato quindi vuole dare coerenza alla sua decisione e tu stai rompendo stai intromettendoti nella sua quotidianità è normale che lei adotti per contro degli schemi difensivi come per esempio il fatto di rispondere in modo freddo monosillabico no? o anche l'altra domanda ma un giorno ci potremo riprovare torneremo assieme ma cosa vuoi che ne sappia? lei sa ma la pena descrivere le sue emozioni del momento? sa che sono diminuite che non ha le farfalle nello stomaco bla 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 cosa ne può sapere del futuro? a maggior ragione che lo sai noi abbiamo il potere che fornendo nuovi stimoli e facendoci percepire in modo diverso possiamo mutare le sue sensazioni i suoi sentimenti perché sentimenti e emozioni dipendono da stimoli ok? dalla percezione questo è proprio il processo attraverso cui vengono codificate le informazioni arrivano degli input dall'ex rilabora quegli input pensa ah non è così male però adesso è molto meglio di prima bam risultato maggiore attrazione senso di coinvolgimento e di voler investire è così ragazzi e soprattutto ultima domanda da non fare è ti va se ci vediamo? ragazzi esistono formule molto migliori di questa a meno che un ex non sia veramente ultra coinvolta e allora lì in quel caso le puoi dire un po' quello che ti passa per la testa che bene o male può funzionare ma in tutti i casi in cui ci troviamo a trattare noi siamo in una zona grigia quindi le parole vanno usate in un certo modo innanzitutto non invitiamo mai una ex a uscire se questa è la prima chat no? perché? perché sennò sembri subito che lei ti dà un dito e tu ti vuoi prendere il braccio ok? quindi l'invito ad un appuntamento va fatto in un secondo momento con calma e in secondo luogo invece di dire ci vediamo come se cercassi rasserenazione sii più sicuro di te e dille dai non sarebbe male prenderci una mezz'oretta di relax quando potresti? venerdì o sabato? sii più deciso poi al massimo e lei a dire ah non posso quei giorni e le chiederemo di controproporre non è difficile giudice Grazie a tutti.